questo racconto è molto più d'una fantasia siete david copperfield lo sono i comi è la vera storia della vita che stavo per iniziare vostra madre è malata quanto malata molto malata terribilmente malata è morta siamo spiacenti mi tornano alla mente personaggi dall'animo audace buongiorno buongiorno troppo presto per un goccetto un pochettino e il loro ricordo si intreccia entrate mettetevi in fila al viaggio della mia vita siamo in rovina come un castello creditorio come siamo in rovina come un enorme castello potremmo tenerlo come cagnolino scherzavo perdonatemi sto cercando di imparare l'umorismo aristocratico da un libro si impone un festeggiamento evviva una memorabile giornata l'avete sentito sono un pazzo furioso che avventura è stata attento ma che fate medicina per farti rinvenire è un intingolo per insalate grazie come vi chiamate copperfield copperfield lui è crappso struddersfield david copperfield oh asini qui non sono messi gli asini che donna straordinaria così cortesa grazie a tutti